Anticipo di lusso allo stadio Gianetti di Saronno, tra FBC Saronno e Solviatese, due big del girone A di eccellenza. Prima della partita la dirigenza del Saronno omaggia con una targa Danilo Tricarico, grande ex e ora allenatore della Solviatese. Poi si comincia, la partita regala subito emozioni, punizione di Pedrocchi, ponte di Fasoli salvato da Lorusso, poi il tiro di Siviero va a lato, non di molto ancora Saronno con Pontigia il numero 99, calcia in porta, respinge Cavalleri, ma alla prima occasione la Solviatese passa e trova il vantaggio, bella triangolazione tra Martinez e Silla, cross di quest'ultimo dalla destra per il colpo di testa proprio di Martinez che si sblocca in maglia a Solviatese, portando avanti la formazione nerazzurra, esulta la squadra ospite, Masticamaro invece il Saronno costretto subito a reagire sotto dopo 10 minuti di gioco, va dopo 6 giri di lancette e la gara torna in parità, Pedrocchi sorprende Cavalleri con una punizione da posizione defilata che però va dritta in porta, esulta il centrocampista del Saronno che aveva ben chiaro fin da subito il suo intento, ovvero quello di trovare il gol. 1-1 al minuto 16 in una partita piena di emozioni, primo tempo meglio la Solviatese in realtà con Baldan che trova riceputi controllo e tiro, murato da Ortolani, sembra un momento di stanca del match ma al minuto 29 la Solvia torna avanti, cross dalla sinistra di Lorusso, ancora Martinez che prende l'ascensore e gira in rete il pallone della doppietta personale del 2-1 per la Solviatese che torna così a condurre che si gode le reti del suo bomber, arrivato in estate dal Sondrio, Saronno stavolta colpito e che vacilla da una palla recuperata da Minuzzi la Solviatese va vicino al terzo gol ma Baldan caccia sul primo palo, proprio dove c'è Barlocco che para, mettendo in mostra ottimi riflessi. Poco dopo ancora pallone buono per Baldan, stavolta ispirato da Kokuz, diagonale a lato del numero 4, altro grande ex della partita. Con le immagini nel secondo tempo, subito colpo di testa di Gabrielli da corner, palla a lato mentre da una rimessa laterale di Lorusso il pallone danza pericolosamente in area del Saronno liscio di Martinez ma bello spunto poi di Minuzzi che però svirgola al momento del tiro. Il Saronno a questo punto reagisce da un cross di Ponticcia, conclusione di potenza deviata in corner dall'angolo seguente di Pedrocchi. Pucca va vicinissimo all'autogol col pallone che colpisce la parte alta della traversa. Entra Torraca nella Solviatese, numero 11 crea subito scompiglio in area di rigore, poi trova la giocata del campione, palla sul destro con una finta conclusione potente imparabile che si infila sotto l'incrocio dei pali. 1-3 Solviatese che sembra averla chiusa, con Torraca che esulta in maniera veemente anche insieme ai compagni di squadra. Ma il Saronno come nel primo tempo trova subito il gol che riapre la partita, palla dentro per Vaglio e Zampata, vincente di Locati che da due passi gira in rete il pallone del 2-3. Saronno ancora in partita, anche se in attacco la Solviatese fa paura e Barlocco deve volare sull'ennesimo colpo di testa di Martinez destinato sotto l'incrocio dei pali. Ma è partita viva e vibrante fino alla fine, spunto di Sardo che fa tutto bene, compreso il tiro destro che finisce a lato di un nulla, mentre poco dopo su una ripartenza gestita dai tre attaccanti del Saronno arriva il tiro finale di Pontigia che però è centrale, facile preda di Cavalleri. In pieno recupero colpo di testa di Cabeza, sparato ancora una volta da Cavalleri, poi il triplice fischio la Solviatese passa a Saronno e torna in vetta alla classifica.